Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI un chilometro di coda per incidente tra Genestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Segnalato poi personale su strada tra centro intermodale ovest e il raccordo per la A12, sempre in direzione Firenze. In A1 per lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. Sul tratto appenninico fare attenzione per neve prevista tra la variante di Valico e Aglio. Sulla statale Trebbis Tiberina nevicata in corso tra San Piero in Bagno e Valsavignone. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Popiglio e la Lima. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!